Vengono in mente le domande da una realtà all'altra, adesso stavo pensando per esempio mi viene in mente i bambini, voi avrete avuto problemi a far entrare i minorenni nel carcere. Sì, infatti non entrano, non possono entrare. E il problema che invece mi viene in mente è che qualche volta i bambini sono in carcere con le mamme, che cosa si può fare lì? In questo momento ci sono circa una cinquantina di bambini reclusi in carcere con le loro mamme in Italia. Qui il problema è veramente grande perché comunque un bambino distretto ha un rapporto con la propria mamma che non è un rapporto naturale e la stessa mamma ha difficoltà comunque a gestire la propria genitorialità, senza contare che gli spazi così chiusi, così piccoli, così confinati provocano anche dei disturbi nella percezione, per cui è importante anche qui portarli fuori questi bambini, per cui di fatto c'è in parecchie carceri che ci sono comunque più associazioni che lavorano e ad esempio molti volontari che prendono i bambini, li accompagnano ai miti esterni. Ma per esempio mi scusi se interrompo, esistono dei limiti di tempo entro i quali è previsto che un bambino stia in carcere? Sì, allora il limite di tempo è tre anni, la legge dice che quando il bimbo compie tre anni non sta più nella cella con la mamma e questo però è un dramma, nel senso che il giorno che il bimbo compie tre anni, il bimbo viene preso e portato fuori. Sì, è un vero dramma. È un dramma per tutte e due le persone insomma. Sentite, io ho delle domande, purtroppo abbiamo tre minuti, quindi cercherei di farvele proprio a tamburo battente. A me preme chiederglielo perché ne ho parlato anche con il Teatro Reggio che è una grande fondazione lirica. Stiamo vivendo un momento di crisi profonda. Il settore cultura è colpito, le grandi fondazioni ne sono colpite e le associazioni come le vostre? Terribile, terrificante. Se ne dico la parola finanziamento, che cosa? È estranea. Praticamente è quasi nullo. E i privati? I privati non esistono proprio, noi ti ribolliamo moltissimo ad avere sponsor. Però voi siete, mi diceva, riconosciuti del Ministero dei Beni Culturali. Sì, noi siamo nel 2004 riconosciuti come impresa lirica che è l'unica nel Piemonte. Infatti io poi faccio parte dell'Agis. All'interno dell'Agis abbiamo creato l'Antal, che è un'associazione nazionale per i teatri lirici, che fa parte anche il centro sperimentale di Spoleto, la Toscanini di Parma e altre realtà. Proprio per potersi un po' tutelare e per avere degli appoggi anche all'unica, una struttura un po' più numerosa. Però i tagli che sono stati fatti comunque dal FUS a Roma sono stati terribili. Non si parla del 50%. Però in questo caso voi avreste bisogno di sostegno in modo particolare per le attività che svolgete nel sociale, che diventa un duplice aspetto. Io vorrei ancora fare, ma non si fa, non si fa una domanda così, in un minuto non si fa. Però esiste anche il problema della gestione delle tossicodipendenze e delle gravi malattie. Lì che cosa potete fare? Qui il problema grosso è riuscire a tirare fuori queste persone, a fare in modo che i magistrati di sorveglianza concedano le cosiddette misure alternative. Perché se il magistrato non permette il percorso di affidamento terapeutico in struttura oppure di affidamento al servizio esterno, le persone rimangono dentro. È importante per queste persone, certo c'è l'accoglienza nelle strutture comunitarie, ma c'è anche la possibilità magari di aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro. Perché comunque il lavoro è un qualche cosa che ti permette di riconoscerti come capace di e non solo come tossicodipendente. Senti, ho una domanda generica, molto generica. Ma di cosa avrebbe bisogno il gruppo Abele per lavorare con un pochino più di serenità? Il problema non è che cosa avrebbe bisogno il gruppo per lavorare con un pochino più di serenità, il problema è cosa avremmo bisogno tutti per lavorare con un pochettino più di serenità. Era la domanda. Cominciamo a pensare a delle leggi che favoriscano la possibilità delle persone di rialzarsi dopo gli errori commessi, che non costringano le persone tutta la vita che non siano solo distruttive. Nel loro recinto. Allora, in realtà io devo chiudere.